Vice sindaco, oggi è una giornata importantissima per Arezzo, segno tangibile di ripartenza e la ripartenza va di pari passo con le vaccinazioni e stamani il camper mobile proprio per avere il siero anti-covid in piazza Sant'Agostino. È una giornata simbolica perché dimostra come la città di Arezzo sa ripartire e riparte alla grande, riparte facendo le manifestazioni storiche, quelle che impongono un numero consistente di persone per loro natura, ma lo fa accompagnando tutto questo con la sicurezza sanitaria e quindi con la vaccinazione che è la strada, l'unica al momento per poter dire di esserne fuori. Non si ferma nella responsabilità, quindi questa è l'Arezzo più bella perché tiene insieme la voglia di sfidare il covid esattamente come il buratto, cioè volendo marcare punti 5 spezzando la lancia, ma dall'altra parte lo fa con grande responsabilità. Quindi io credo che noi oggi veramente diamo una dimostrazione di come si riparte nell'intelligenza.